Rappresentanti di preziosi nel mirino dei ladri parte la fiera dell'oro di Vicenza, parte tutta una serie di provvedimenti di sicurezza ma i malviventi agiscono lo stesso indisturbati. Solo ieri vi abbiamo dato notizie di tre colpi da altrettanti commercianti, oggi un altro caso, vittime due spagnoli che in una manciata di secondi si sono visti rubare i trolley con dentro campionario d'argenteria riposti nel bagagliaio di una panda presa a nolo. I due erano scesi dall'auto per cercare il civico dell'appartamento, affittato per l'occasione in via dei Cappuccini e in un attimo i ladri sono entrati in azione.